Il dodicesimo Torino-Praida ha attraversato la città di Torino sabato 17 giugno con un serpentone colorato e vivace che ha vissuto un momento di silenzio in piazza San Carlo in memoria di Erika Pioletti, deceduta dopo gli incidenti del 3 giugno. 50.000 persone che dopo via Roma, piazza Castello, via Petromicca e via Cernaia si sono ritrovate per la festa finale in piazza Statuto per ricordare i diritti di tutte le coppie e rinnovare l'impegno verso il matrimonio egualitario. Alla manifestazione hanno aderito numerose associazioni, partiti e sigle sindacali, presenti le istituzioni, Consiglio regionale, Regione Piemonte, Città di Torino e numerosi sindaci e amministratori in rappresentanza delle loro realtà. In piazza Statuto il saluto del Presidente del Consiglio regionale. Oggi siamo in migliaia in piazza per ribadire no a tutte le discriminazioni, ha dichiarato, unino alla libertà per perseguire un obiettivo, quello di riuscire a contaminare quelle persone che ancora vivono usando la soprafazione e negando diritti. Lo spirito del Pride saprà guarirli. 12esima edizione del Torino Pride che quest'anno diventa anche Piemonte Pride. Sì, quest'anno abbiamo raddoppiato, faremo questa manifestazione che percorrerà, insomma farà un percorso particolare che non abbiamo mai fatto e arriverà fino in piazza Statuto e poi l'8 luglio faremo il Pride di Alba che è una prima assoluta e che insomma tutta la provincia grande sta aspettando con molta ansia. Grazie a tutti.